. Anticipazioni Grande Fratello VIP 2018, i nomi dei primi concorrenti favoriti. Grande Fratello VIP 2018, arrivano le prime indiscrezioni sui prossimi concorrenti. . Il Grande Fratello VIP 2018 sta per tornare in onda su Canale 5. Le anticipazioni ufficiali sul reality show rivelano che quest'anno andrà in onda la terza stagione della versione Celebrity che in questi anni ha ottenuto ascolti molto positivi. . La più vista in assoluto è stata ledizione dello scorso anno che con un cast a dir poco azzeccatissimo ha ottenuto una media finale di 4.7 milioni di spettatori e più del 25% di share. . Ecco quando ritorna il GF VIP in TV. Un successo trionfate che ha spinto Mediaset a riportare in video quest'anno anche la versione classica del GF condotta da Barbara D'Urso ma al timone della versione VIP ci sarà la confermatissima Ilari Blasi. . . Possiamo svelarvi, infatti, che anche quest'anno la signora Totti sarà la conduttrice ufficiale del reality show e avrà al suo fianco sempre Alfonso Signorini, che proprio in queste settimane ha criticato la quindicesima edizione della versione NIP del reality show. . . Quando tornerà in onda il GF VIP 2018 su Canale 5? Le anticipazioni ufficiali rivelano che quest'anno il reality show ritornerà in video a partire dal mese di ottobre, subito dopo le quattro puntate della prima edizione di Temptation Island VIP condotto da Simona Ventura. . . I primi possibili concorrenti del Grande Fratello VIP 2018. . E così in queste ore ecco che gli autori della versione VIP del GF stanno già lavorando per ricercare i nomi dei nuovi concorrenti famosi che prenderanno parte a questa terza edizione che dovrà bissare il successo dello scorso anno con la coppia composta da Cristiano Malgioglio e Simona Izzo. . Ebbene tra i nomi dei concorrenti favoriti che in questo momento sembrano essere in pole position per entrare nel cast della trasmissione di Canale 5 vi facciamo quello di Andrea Cerioli, che in molti ricorferanno per il suo passato da ex tefino ma anche da ex tronista di Uomini e Donne. . 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